Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti di nuovo ancora ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e dall'immancabile maglietta delle Flying Tigers regalo di quel grand'uomo che è John Mariani, che è l'amico John Mariani John, grazie veramente Ok, signori, 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 tenetevi forte perché quest'oggi con l'indispensabile aiuto dell'amico Gianluca Bertozzi con cui ho già fatto molti altri video grazie alla cui straordinaria competenza e alla straordinaria capacità di analisi ho fatto molti video dicevo, con l'amico Gianluca Bertozzi analizziamo la cosiddetta tigre di carta ovvero sia la prima divisione corazzata di camice nere M che cos'era questa prima divisione corazzata camice nere? allora, era una divisione che nacque per un accordo della milizia volontaria di sicurezza nazionale con l'alleato germanico accordo che avvenne nell'aprile 43 e questa divisione corazzata doveva essere posta agli ordini diretti del Duce che avrebbe dovuto essere schierata nei pressi di Roma per assicurare la protezione di Mussolini e difendere il regime da colpi di Stato paura, eh? vabbè, vabbè, vabbè Imler in persona garantì che i materiali necessari sarebbero stati forniti dalla Germania allora i materiali necessari ad armare la divisione giunsero a chiusi ai primi di maggio 1943 con un nucleo addestrativo tedesco di circa 60 elementi per l'istruzione delle reclute italiane il comando della divisione fu assegnato al console generale Lusana della milizia volontaria di sicurezza nazionale i materiali forniti erano quanto di meglio fosse al momento disponibile nella Wehrmacht a parte i tigre perché c'erano 12 Panzer IV Ausf G e 12 Panzer III Ausf N con in più 12 semoventi Sturmgeschutz III Ausf G con 24 pezzi da 88 mm x 56 della Flak i famosi Flak 37 allora pur se definita divisione corazzata l'unità in realtà costituiva al più l'equivalente di un Kampfgruppe di livello di brigata la sua composizione la rendeva inadatta a un impiego sul campo contro unità regolari essendo priva di componenti fondamentali quali unità esploranti e logistiche e le armi automatiche contraeree mentre disponeva di due raggruppamenti di battaglioni M cioè fanteria leggera molto utile in caso di combattimenti in area urbana e in ambienti cittadini diciamo con operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico allora in pratica ci dice l'amico Bertozzi che questa unità appariva costituita esclusivamente per penetrare rapidamente in Roma superando eventuali resistenze con l'appoggio degli armi pesanti e dei mezzi corazzati per reprimere disordini o assicurare la fuga in sicurezza di Mussolini che era effettivamente il compito a cui questa unità era stata destinata da Himmler l'addestramento dell'unità iniziò a rilento perché c'erano molte difficoltà a tenere la disciplina entro reparti disomogenei come quelli che formavano la divisione perché siamo sinceri le camicie nere le camicie nere non è che brillassero propriamente per disciplina o capacità di obbedire all'ordine no no a parte la lodevole eccezione della legione camicie nere tagliamento in Russia che però era agli ordini uno del miglior comandante militare delle camicie nere cioè il consul Nicchiarelli due al comando del del generale Giovanni Messe comandante dell'Oxir che era indubbiamente il miglior generale italiano e per quello l'attagliamento in Russia fece molto bene per il resto le divisioni di camicie nere combinarono poco o nulla durante la guerra ok perché a poco potevano poco potevano servire allora c'era anche la questione a rallentare la formazione l'addestramento dell'unità c'erano anche gli attriti col regio esercito che non vedeva di buon occhio la costituzione di una divisione politicamente orientata e fornita di un armamento scusate nettamente superiore a quello delle altre divisioni italiane per questi motivi fu solo il 2 giugno 43 che lo stato maggiore dell'esercito emanava il foglio d'ordine per la costituzione della divisione divisione che dopo la destituzione e l'arresto di Mussolini il 25 luglio 43 dicevo non aveva la divisione non aveva intenzione di contrastare il fatto compiuto della caduta del fascismo e venne rinominata divisione corazzata legionaria e successivamente 136esima divisione corazzata centauro 2 la guardia personale del duce che alza le mani e dice oi boh avete arrestato il duce aiuto fate come vi pare siamo agli ordini vostri in pratica hanno fatto questo i guardiani del duce cari signori prima di parlare di tradimento da parte del re o da parte del gran consiglio del fascismo tenete presente la divisione M che non alzò un dito vabbè lasciamo stare lasciamo stare lasciamo stare anche perché Mussolini non ci pensò minimamente a far entrare in azione la divisione M ma vabbè lasciamo stare allora la l'armamento divisionale era la divisione comprendeva 5700 uomini con 148 armi automatiche leggere di cui 78 breda 30 la giuda 78 la giuda signori 46 mitragliatrici pesanti MG42 36 mortai da 45 16 mortai da 81 20 cannoni da 47 32 i nostri elefantini 24 cannoni da 88 millimetri contraerei e anticarro e in più i 36 mezzi corazzati divisi in parti uguali tra Panzer 4 Panzer 3 e Stormgeschutz 3 allora poi c'erano come dire anche 30 autovetture un'auto ambulanza 75 autocarri pesanti 94 autocarri medi 328 autocarri leggeri 12 motocarri 24 trattori semi cingolati tedeschi SD K FZ 7 6 rimorchi 3 autofficine e 261 motociclete allora Nico Sgarlato in mezzi corazzati tedeschi volume 1 parla anche di una possibile cessione di 2 o 5 Stormgeschutz 3 armati con il cannone da 105 L28 ma lo fa solo come dire lo cita soltanto lui lo cita soltanto Sgarlato nella sua opera quindi è una cosa abbastanza poco sicura inoltre il 15 aprile 43 il comando supremo autorizza l'avviamento in Germania di personale specializzato italiano per addestrarlo all'uso e alla manutenzione di carri tedeschi nella fattispecie i Tigre ok ai primi di aprile infatti il diciannovesimo battaglione carri M a Siena aveva ricevuto l'ordine di formare una compagnia speciale di istruzione Tigre con proprio personale e altri elementi provenienti dal deposito del 31esimo carristi di Siena la scelta di questo reparto che avrebbe ceduto personale già formato e operativa indica che si voleva ridurre al minimo i tempi di formazione della nuova unità evitando i problemi che aveva incontrato la milizia volontaria e sicurezza nazionale nel gestire la prima fornitura di carri tedeschi anche a costo di ridurre l'operatività di una delle poche unità corazzate all'epoca attiva insomma togliamo personale specializzato togliamo personale specializzato da una delle poche nostre unità corazzate ancora efficienti il trentunesimo carristi di Siena per cosa? perché Mussolini aveva bisogno di qualcuno che gli parasse le chiappe vabbè 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 allora il 15 aprile la compagnia organizzata su quattro plotoni con dieci ufficiali 35 sotto ufficiali e soldati e cinque interpreti partiva per la sicilia dove iniziò la familiarizzazione con un mezzo così diverso dai mezzi italiani e te credo io perché passare dall'm13 o al massimo dal bassotto al tigre era veramente come passare dalla guida di un triciclo a un x-wing fighter di guerre stellari insomma diciamoci la verità allora inoltre un gruppo di meccanici e montatori italiani fu inviato presso due plotoni officina dei reparti corazzati tedeschi ma anche presso le fabbriche in Germania per apprendere le procedure di manutenzione del materiale tedesco terminata la fase basica dell'addestramento già il 15 maggio la compagnia di istruzione è al centro addestramento caristi di Paderborn dove il personale riceve una razionale e completa formazione teorica e pratica con addestramento in aula nei vasti poligoni annessi alla scuola e visite alla fabbrica della Maybach ok allora fine luglio addestramento completato il 25 il reparto è a Como dove apprende della caduta di Mussolini e da lì raggiunge il deposito di Siena dove sarà sorpreso dall'armistizio senza avere ovviamente ricevuto i carri non si sono reperiti documenti sul quantitativo di carri di cui era prevista la fornitura ma il fatto che per i tedeschi l'unità minima di impiego dei tigre se non inquadrati in divisione era il battaglione di 45 carri quindi si ritiene che quello fosse l'obiettivo cioè costituire un battaglione di 45 carri sulla falsa riga degli Schwerpanzer Abteilung ok i carristi italiani della compagnia ritenevano possibile che una volta ricevuti i carri la loro unità sarebbe stata aggregata alla divisione corazzata della milizia destinazione non gradita essendo dell'esercito che già aveva ricevuto carri medi e artiglierie tedesche il che appare logico perché riunendo tutto il materiale di origine tedesca sarebbe stato possibile un uso più razionale allora allora e qui cominciamo con le dolenti note l'amico Bertozzi punta il dito contro la dura cioè ci espone la dura realtà dei fatti allora molte fonti parlano con toni entusiastici della potenza dell'unità bene ma in realtà i tedeschi lamentano fin da subito l'incompetenza del personale italiano e inoltre la sua scarsissima disciplina antico problema della milizia sì perché ripeto la milizia volontaria sicurezza nazionale non brillava certo per disciplina anzi anzi problemi aggravati dal fatto che se la milizia poteva fornire personale di fanteria anche con esperienza di combattimento era priva di componenti corazzate da cui trarre personale e il personale della milizia contraria inquadrato nell'unità di artiglieria non aveva alcuna esperienza di tiro contro obiettivi terrestri tutte competenze difficilmente conseguibili in breve tempo il 10 luglio la divisione aveva eseguito una esercitazione a fuoco alla presenza del duce e delle massime autorità militari italiane entusiasmando il duce che ne richiese l'immediato invio in Sicilia ma preparatevi signori perché c'è da ridere ora sì c'è da ridere o per meglio dire c'è da ridere per non piangere cari signori allora questa famosa esercitazione a cui assistete il duce viene spesso descritta in termini enfatici ed entusiastici l'esercitazione a fuoco riuscì in maniera entusiasmante per la buona volontà l'impegno e lo slancio delle camicie nere e per l'impressionante volume di fuoco che avevano potuto sviluppare le nuove armi in dotazione cosa mai vista in Italia fino a quel giorno anche per la precisione e la potenza del tiro però in realtà era quello che si dice una manfrina cioè una esibizione meramente dimostrativa che viene organizzata da una unità in occasione di visite in in caso di visite di autorità superiori ma che non riflette il vero livello operativo di un'unità il solito vizio della confusione tra forma e sostanza il solito vizio della carenza di armamento il solito vizio dell'incapacità di capire che un conto sono le esercitazioni un conto è prepararsi alla guerra vera quella dura quella pesante quella cattiva allora i mezzi corazzati teniamo presente erano stati condotti dal personale tedesco ecco perché l'esercitazione della della divisione M fu così entusiasmante mentre l'artiglieria aveva eseguito solo tiri a salve dato che l'unità non era assolutamente operativa cosa ben nota alle autorità militari italiane che difficilmente saranno rimaste impressionate come normalmente si dice perché io mi ricordo qualche anno fa un certo signore che starnazzava di questa valorosissima e prestigiosissima divisione M che 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 era all'altezza delle migliori unità tedesche la dura confusione tra forma e sostanza il duro impatto con la realtà oggettiva dei fatti signori nonostante l'insistenza e la pressione di Mussolini perché la divisione fosse inviata quanto prima in Sicilia a contrastare gli alleati gli istruttori tedeschi ebbero buon gioco a dimostrare l'insufficienza dello stato di approntamento dell'unità il 25 luglio la divisione era ancora impegnata in attività addestrative nella zona di Campagnano vicino Roma ok quando Mussolini fu destituito e arrestato il 25 luglio 43 l'esercito constatò che la prima divisione corazzata di camicie nere M non aveva intenzione alcuna di contrastare il fatto compiuto la fedeltà signori la grande fedeltà vabbè lasciamo perdere allora come ho già detto l'unità venne ridenominata 136esima divisione corazzata centario 2 e al suo comando fu assegnato il generale Calvi di Bergolo che era già stato comandante della prima divisione corazzata centauro la 131esima ed era genero del re Vittorio Emanuele III nei primi giorni di settembre la divisione fu assegnata al corpo d'armata moto corazzato il cam destinato alla difesa di Roma dai possibili attacchi tedeschi considerando che la direttrice della terza divisione Panzer Grenadier tedesca per un eventuale attacco su Roma passava proprio per la zona dove era dislocata la Centauro 2 lo stato maggiore provvide a trasferirla nella zona tra Lunghezza e Tivoli anche questo trasferimento puramente logistico fu problematico e si svolse tra molte difficoltà e durò vari giorni più del previsto e più di un carro armato finì nei fossi a bordo strada per errori di guida e il morale della truppa ne risentì ulteriormente si tentò di trasformare l'unità in una vera divisione inserendo altre unità ad esempio il 18esimo reggimento bersaglieri corazzati e il 19esimo battaglione carrieme lo stesso reparto che si stava addestrando per l'uso dei tigre dicevo questi reparti non furono mai inglobati nella divisione e c'è da dire che secondo il generale Calvi di Bergolo la disciplina era inesistente i militi avevano l'abitudine di allontanarsi dai reparti senza permesso i carristi erano in grado solo di condurre su strada i mezzi ed erano privi di addestramento al combattimento per carro e di reparto non avevano mai sparato un colpo ed era necessario che gli equipaggi venissero integrati da una cinquantina di carristi dell'esercito un numero rilevante tenendo conto del fatto che per formare gli equipaggi dei carri e semoventi tedeschi di uomini ne servivano 144 praticamente si trattava di una unità pressoché inutilizzabile la guardia personale del duce vabbè signori allora il maggiore pennetti appena aggregato all'unità di artiglieria rilevava che il personale da lui dipendente oltre ad avere un morale bassissimo e desideroso solo di fare ritorno a casa non era addestrato al tiro contro bersagli terrestri e aveva già fatto deteriorare trattori e cannoni arrugginiti e non lubrificati per carenza di lubrificanti e stracci cannoni dei quali non era possibile alcun uso reale perché privi di centrali di tiro e organi di direzione del tiro non ancora arrivati dalla Germania cioè non avevano nemmeno gli stracci e l'olio per la manutenzione dei pezzi d'artiglieria cazzo somma dove andavamo a fare la guerra Cristo allora se è vero che l'Italia del 43 aveva grattato il fondo del barile e l'unità non era certamente la pupilla dell'esercito appare incredibile che il suo comando non avesse trovato il modo di procurarsi qualche latta d'olio e qualche coperta da cui procurarsi un po' di stracci per proteggere materiale moderno ed efficiente cioè in pratica questi hanno fatto arrugginire quanto di meglio potevano fornirci i tedeschi i pezzi d'artiglieria tedeschi lasciati arrugginire perché non erano capaci di procurarsi degli stracci e del lubrificante cristo la guardia personale del duce il reparto di rappresentanza del duce vabbè signori scusate si cercò quindi di allora allora questa cosa fa apparire credibili le accuse di apatia e incompetenza che vengono rivolte all'unità e ai suoi militi perché è talmente assurdo che difficilmente qualcuno potrebbe esserselo inventato si cercò quindi di migliorare il livello dell'unità allontanando il personale meno adatto sostituendolo con soldati insomma con personale di sicura preparazione ma ci sarebbero voluti altri cinque mesi di addestramento per rendere l'unità operativa allora l'otto settembre la centauro due fu messa in stato d'allarme e insomma come dire il comportamento di questa divisione il giorno dieci settembre è stato oggetto di aspre polemiche la divisione non si mosse dall'acquartieramento e non prese alcuna parte attiva ai combattimenti più per impossibilità fisica che per adesione al fascismo il 13 settembre la divisione fu disarmata da parte dei tedeschi i materiali di origine germanica furono tutti rilevati da unità tedesche e successivamente riutilizzati sul fronte di Anzio e Cassino allora malgrado circoli la voce che il personale abbia aderito in buona parte alla repubblica sociale italiana in realtà solo pochi elementi lo fecero costituendo la base del gruppo carazzato della GNR cosiddetto Leonessa allora signori le fonti sono un articolo di Filippo Cappellano su storia militare numero 133 e il libro di Nicola Pignato autoveicoli da combattimento dell'esercito italiano e motori di Filippo Cappellano oltre ai mezzi blindo corazzati italiani 2343 sempre di Nicola Pignato insomma 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 la divisione la divisione corazzata delle camicie nere M M M in pratica una cozzaglia di mentecatti cioè rendiamoci conto cioè rendiamoci conto nemmeno gli stracci e l'olio per l'elementare manutenzione delle artiglierie prestateci dai tedeschi nemmeno quello cioè ci vogliamo rendere conto signori l'incapacità cioè le camicie nere italiane non hanno mai brillato per capacità belliche ripeto il solo il solo reparto o quasi di camicie nere che combinò qualcosa di valido durante la seconda guerra mondiale come ho già detto fu la legione camicie nere tagliamento in Russia ma perché quelli erano comandati dipendevano dallo xir di quel satanasso del generale Messe e oggettivamente la tagliamento in Russia era governata dal console Nicchiarelli che era uno dei migliori comandanti delle camicie nere italiane all'altezza se non migliore di tanti suoi colleghi del regio esercito e per questo che l'attagliamento in Russia si comportò bene ma per il resto l'indisciplina l'incapacità militare la cretinaggine la cazzoneria la superficialità dei militi delle camicie nere e dei loro comandanti emerge da questo tragicomico episodio cioè rendiamoci conto i tedeschi ci forniscono materiale nuovo di pacca come i cannoni Flak da 88 e non sappiamo come procurarsi gli stracci e l'olio per lubrificarli e fare la manutenzione facendoli arrugginire Cristo ma ci rendiamo conto cioè signori 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 le parole dell'amico Bertozzi sul compartamento della divisione corazzata camicie nere M sono agghiaccianti a dir poco cioè ma veramente cioè ma veramente veramente l'unità che doveva proteggere Roma da sedizioni colpo di stato tumulti torbi di scioperi insurrezioni comuniste eccetera eccetera composta da personaggi che non erano veramente in grado di procurarsi olio e stracci per pulire le armi e mi devo sentir dire cioè mi devo sentir parlare tu non ci parli delle gloriose divisioni camicie nere ripeto per l'ennesima volta un reparto delle camicie nere fece il suo dovere l'attagliamento in Russia ma perché perché era comandata bene da uno che conosceva il mestiere della guerra come nicchiarelli e faceva parte del corpo di spedizione italiano in Russia comandato dal nostro miglior comandante ovvero sia il generale Giovanni Messe ok ma ma cioè ci rendiamo conto cioè ci rendiamo conto che questi non sapevano portare i loro mezzi non sapevano sparare con i loro cannoni non sapevano fare la manutenzione dei loro cannoni e dei loro mezzi rendiamoci conto la guardia personale di Mussolini cioè io ho sentito decantare cose cose spaventate ho detto ah se la divisione bloccarono la divisione M impedirono la divisione M di salvare Mussolini e in realtà la divisione M altro che salvare Mussolini dall'arresto la divisione M non era in grado di trovarsi le chiappe cercandole con tutte e due le mani e rubando un radar Westinghouse agli americani è questa la tragica realtà dei fatti la superficialità la supponenza l'incapacità di capire che cos'era la guerra da parte dei vertici italiani il regio esercito paradossalmente per quanto brillasse decisamente poco aveva ragione a non volerne sapere di un reparto politicizzato perché si trattava di un reparto di cialtroni signori ci rendiamoci conto la pulizia l'elementare manutenzione l'elementare manutenzione delle armi non sapevano fare non sapevano veramente organizzare la raccolta di stracci e olio per la manutenzione dei loro mezzi ma ci vogliamo rendere conto un cannone antiaereo deve essere la canna deve essere regolarmente pulita per togliere le incrostazioni le incrostazioni i giunti vanno costantemente oliati la stessa arma va oliata e protetta per proteggerle dall'ossidazione per proteggerla dalle intemperie Cristo persino io che sono contadino al mio spandiconcime do regolarmente due volte all'anno una passata con lo straccio imbevuto di nafta per impedire che si arrugginisca per impedire che il concime chimico si attacchi alle pareti dell'attrezzo e me lo distrugga con l'ossidazione con la ruggine io lo so ma questi qui non erano c'è veramente rendetevi conto non saper fare l'elementare manutenzione del proprio armamento c'è una roba la corte marziale no era una grande unità era una valutazione era un'unità valorosissima era un'unità che fu vigliaccamente fermata era un'unità che aderì in massa alla Repubblica di Salò era un'unità che era soltanto un mucchio di carta igienica usata perché non era in grado di combattere per le carenze addestrative per le carenze di formazione per le carenze di personale per la carenza stessa di motivazione tutto era allo sfascio era allo sfascio anche la divisione M quindi cari signori non non stiamo tanto a girarla la divisione M fu un fallimento che mise a nudo le impietose carenze militari delle formazioni politiche del partito la milizia volontaria di sicurezza nazionale era veramente una cozzaglia di cialtroni senza arte ne parte c'è veramente non saper cioè gli ufficiali comandanti i responsabili del reparto che non sapevano come reperire stracci e olio per l'elementare protezione dalle intemperie dei cannoni signori che vi posso dire basta e ancora parlano e ancora parlano di questa unità dipingendola come di un reparto speciale che avrebbe potuto fare questo quello e quell'altro no fu uno spreco perché al posto di destinare quei carri armati alla difesa della Sicilia o alla difesa della Tunisia no a difesa di Mussolini perché Mussolini aveva paura aveva paura del colpo di stato una divisione che però era praticamente inutile per le stesse pecche di mentalità per le stesse pecche del regime quella divisione era un gusso vuoto come dice giustamente l'amico Bertozzi una tigre di carta tutto qua quindi cari signori fatemi sapere che cosa ne pensate aspetto i vostri commenti e come sempre commentate 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 come sempre arrivederci al mio prossimo video e come sempre cari signori ciao ciao ciao